salve a tutti cari amici oggi voglio condividere con voi come ho imparato la lingua spagnola come ho imparato lo spagnolo voglio parlarvi anche delle mie esperienze con la lingua inglese portoghese ed altre lingue ma voglio principalmente concentrarmi sulla lingua spagnola perché se voi seguiste queste mie strategie che si basano sull'esperienza e sul mio successo personale potreste sicuramente imparare molto meglio la lingua italiana sapete che in questo canale diffondo la meravigliosa lingua italiana e la sua cultura e volevo darvi oggi la mia esperienza personale ed una forte motivazione per iniziare ad apprendere l'italiano per iniziare a praticarlo e volevo farvi partecipi della mia esperienza quando anni fa ho iniziato ad imparare le lingue straniere la mia esperienza è stata totalmente e completamente un'esperienza di tipo pratico premetto alcune cose durante le scuole superiori nel mio paese in italia o comunque durante la mia partecipazione al mondo accademico come studente fin anche all'università lo studio delle lingue è stato tipicamente realizzato con metodologie antiquate e sicuramente come studente ho sofferto molto la questione teorica e in particolare l'incompetenza fonetica e l'incompetenza pratica dei professori che tentavano di insegnarci la lingua in questo caso la lingua inglese perché in italia durante le scuole superiori principalmente si studia la lingua inglese e proprio a radice delle mie esperienze saluto maya e anche voglio salutare la nostra amica mail in come state ecco voglio parlarvi della mia esperienza personale perché quando finalmente al di là fuori dal contesto accademico tradizionale che imponeva dei corsi molto noiosi molto teorici con grammatica e soprattutto con grande incoerenza dei professori che non potevano parlare la lingua non potevano pronunciarla in maniera corretta e questa è la problematica che molti di voi vivete nei vostri corrispettivi paesi molte persone che vivono attualmente in america latina molte persone che vivono anche negli stati uniti o anche in europa molte volte partecipano a lezioni con professori così chiamati che semplicemente non conoscono la lingua che non sono capaci di parlarla che non sanno praticarla che non saprebbero realmente utilizzarla per dare una conferenza pubblica con persone che realmente vivono in quel paese quindi la fondamentale necessità ed è per quello che io voglio riportarvi su un dato di praticità e soprattutto di efficacia linguistica pratica e che quando finalmente ho rimosso o eliminato i pregiudizi anteriori purtroppo la vecchia metodologia teorica grammaticale aveva creato in me una specie di difficoltà perché inizialmente io non potevo parlare l'inglese proprio perché non potevo sopportare quella metodologia completamente ipocrita ma soprattutto avevo desiderio necessità di motivazione di entusiasmo di vitalità di pratica di obiettivi di efficacia e adesso passo alla mia esperienza come io ho coltivato la mia propria passione delle lingue straniere inizierò con lo spagnolo anche se il mio viaggio nel mondo delle lingue straniere è iniziato con un viaggio vero reale pratico in inghilterra in particolare a londra avevo approssimatamente 18 19 anni e poi chiaramente ho esteso la mia passione per le lingue nei confronti dello spagnolo del portoghese del francese del rumeno e tante altre lingue che sono magari minori dal punto di vista della mia personale esperienza ma sono desiderose di essere apprese da tutti noi in ogni caso per essere più sintetici come ho imparato la lingua spagnola primo passo la motivazione la passione io avevo un obiettivo io amavo viaggiare io amavo conoscere persone di cultura diversa dalla mia io amavo anche moltissimo le donne amavo le donne sono un uomo ovviamente per un uomo italiano le donne anche chiaramente l'idea di vivere l'esotismo di spiagge tropicali di paesi latinoamericani e soprattutto anche di imparare culture nuove un nuovo modo di mangiare chiaramente questo mi sembrava assolutamente emozionante e avventuroso e proprio per poter conoscere queste meravigliose persone per poter iniziare in condizioni questi viaggi iniziai subito a praticare la lingua spagnola direttamente con persone che erano arrivate in italia magari studenti e soprattutto studentesse dell'erasmus l'erasmus è un progetto universitario che collega i paesi anche europei in alcuni casi internazionali e queste persone che venivano magari dalla spagna o dall'america latina parlavano spagnolo tentavano di imparare l'italiano ed in questa maniera io avevo intuito la possibilità di fare uno scambio culturale un intercambio come si dice in spagnolo quindi uno scambio linguistico e immediatamente io non conoscevo la grammatica spagnola io non avevo letto nessun libro spagnolo direttamente ho iniziato ad immergermi a sommergermi a essere completamente all'interno di una forza mentale e di un ambito fisico proprio di attivazione della mia attenzione perché sempre costantemente chiedevo come si dice questa parola e come si pronuncia questa parola e come si dice questa frase e come posso tradurre e come posso dire e ripetevo come un pappagallo ripetevo ripetevo praticavo praticavo ripetevo ripetevo praticavo praticavo voglio prima di leggere qualche messaggio farvi capire che la mia personale esperienza con le lingue è stata praticamente quella suggerita dal maestro miaghi in karate kid se voi avete visto il film karate kid soprattutto le persone della mia epoca e c'era il maestro miaghi che insegnava a daniel san a mettere la cera e togliere la cera metti la cera togli la cera l'idea di base è che la nostra mente ed il nostro corpo sono uniti da una interazione neurofisiologica molto potente e che solamente la pratica solamente la realtà solamente il muovere la bocca il produrre suoni la creazione fonetica il desiderio anche fisico di manifestare l'espressione quindi la relazione umana la condivisione di una tematica importante il desiderio di conoscere l'altra persona o l'altra cultura mi motivava così tanto da superare la frustrazione e da superare la momentanea inerzia di non saper parlare quindi abbiamo detto ovviamente motivazione e passione io avevo realmente un sincero desiderio di imparare e desideravo con forza conoscere le persone conoscere in particolare alcune ragazze perché quando sei adolescente poi dopo anche nei primi anni della maturità un uomo soprattutto un uomo italiano amante delle donne vuole conoscere vuole corteggiare vuole conquistare vuole imparare quindi la lingua spagnola era una metodologia era uno strumento era il mezzo per poter conoscere per poter aprirmi le porte a un nuovo mondo per poter comprendere per poter conoscere persone fantastiche per potermi emozionare e quindi ero completamente assorto ed ero assorbito da questo processo e numero due l'umiltà io sono sempre stato una persona molto umile quando si tratta di imparare l'umiltà è veramente fondamentale perché non ho mai avuto timore e non ho mai avuto vergogna di chiedere gentilmente come si dice questa parola per favore maria come posso pronunciare questa cosa e poi mi aiutavo con le mani e comunque continua continuavo ad avere questo desiderio di praticare praticare parlare parlare comunicare esprimermi in poche parole io non sapevo ancora lo spagnolo la prima volta che iniziai a produrre alcune frasi alcune parole io semplicemente mi stavo limitando ad ascoltare con molta attenzione mi stavo limitando ad ascoltare e ad assorbire con forza con attenzione con concentrazione con desiderio con motivazione e con una bella energia positiva queste parole queste frasi e tentavo di emularle tentavo anche non solo di emulare la fonetica della lingua ma anche l'accento l'interpretazione della persona era come praticamente tentare di fare l'attore cosa fa un attore l'attore un vero attore professionista con una metodologia veramente pratica e pragmatica entra nel personaggio entra nello spazio mentale emotivo del personaggio principale in questo caso la lingua spagnola o comunque un personaggio che vive la lingua spagnola che ama conoscere e parlare direttamente in spagnolo e quindi pensare in spagnolo a quel punto la mia mente si era aperta e io tentavo di cogliere carpire le piccole differenze nella modulazione della voce le piccole differenze nella maniera di articolare il fonema e ripetevo e ripetevo le prime volte che parlavo spagnolo ovviamente il suono era ridicolo il suono era povero il suono era inefficiente la fonetica la pronuncia non erano buoni ovviamente se la persona stava pronunciando una frase e io ho iniziato con le cose semplici con le cose fondamentali come ti chiami ciao come stai da dove vieni qual è la tua nazionalità dove vivi cosa fai nella vita quali sono le tue passioni cosa ti piace fare nella vita queste domande che sono le stesse domande che tu puoi imparare ad esprimere in italiano sulla mia pagina web ricevendo il video corso gratuito di italiano alla tua email io le ho applicate inizialmente la mia propria vita come alunno come studente e quindi dicevo dicevo a la ragazza o al mio amico o allo studente o allo studentessa che essendo magari a torino a milano a roma tanti stranieri ai turisti ricordo che a volte io iniziavo a conversare con i turisti che viaggiavano a roma o con i turisti che visitavano firenze o torino era sempre una grande opportunità a parte i miei viaggi personali che hanno poi consolidato questa maturità linguistica però inizialmente io avevo questa questa capacità di superare la vergogna di superare la paura dell'errore di superare la mia incapacità iniziale per lanciarmi io mi lanciavo mi lanciavo con attitudine positiva mi lanciavo con ottimismo mi lanciavo con fede mi lanciavo con energia e dicevo le persone come si dice io mi chiamo marco in spagnolo oppure dicevo come posso dire bene come posso pronunciare bene io sono italiano e voglio visitare la spagna in spagnolo e queste persone con pazienza ripetevano e io molto molto pazientemente ma anche molto intelligentemente e senza nessuna vergogna dicevo per favore puoi ripetere nuovamente come come puoi ripetere nuovamente e dopo insistevo e dicevo ok adesso come lo sto dicendo io ascolta dicevo la frase in dicevo la frase in spagnolo e aspettavo la risposta della persona che mi diceva bene o dobbiamo dobbiamo migliorarlo e adesso voglio farti voglio fartelo direttamente in spagnolo in spagnolo per che vedo come era la interazione basicamente io che studiace in un ambito turistico perché la gente venia a visitare l'Italia stava a lo mejor in una piazza o in alcun caffè e io chiaro di forma molto sociabile diciamo entrava a conoscere con la sonrisa e di repente dopo che si montava un minimo di amborzazione io non perdia la occasione di che la persona di la per favore il turista di turno il amico recien conosciuto o la chica che mi gustava le pregunte inmediatamente ok muy bene io sto deseando prendere il spagnolo per favore guiame insegnami aiutami molto humildemente le dice oye por favore però come 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 se dice per esempio che io voglio visitare spagna come se dice per esempio che io voglio voglio andare a viajar pronto a colombia o mira però molto bene come si dice come si dice e la persona me lo dice va io ponia molta attenzione in tutto il dettaglio di come si articulava la parola osea che mi appassionava non solo la idea estructural di che io voglio vedere la frase non io voglio replicare il sonido io voglio appassionava del acento della persona perché era come il personaggio al quale hable in italiano con la idea di che poi io voglio essere come un actor che realmente poi io voglio io non io non è che dire che stia parlando spagnol di spagna a ver tu eres venezolano poi allora dire come 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 è che io voglio stare parlando venezolano o se tu eres per esempio della Repubblica dominicana come è che io voglio stare parlando dominicano come è la cosa no? quindi mi dice come è la viena mi dice io tengo che repetir tengo che entenderlo ok si in cambio la persona è di Colombia il acento è un poco diverso Claro, io ora ho molto tempo che non sto per l'allà, però Usted sabe, cambia completamente la forma Perché il sonido e la musica E' tutto differente, no? Questo che vuoi dire? Io stava ansioso, felice, deseando, anhelando Pues è absorber tutto Quando parlava, tras mia intenzione di aprendere Le ascoltava con una profundità E voleva absorber, repetir, emular E poi, quando lo ripetava di volta Incluso pedia, insistia, che mi dicera Se lo stava dicendo, che mi corrigiera Fíjate che io aprendi il spagnolo di esa forma Osea, literalmente, sopra la marcha Per la calle, conoscendo desconocidos E poi, claro, profundizzando con amistades più profondas O incluso, lo dico così, con il romanticismo Pues, molte volte io, per joven, italiano Viajando per il mondo, enamorando a le donne Eres ahí, ya, como en plan Conociendo, amando, romanticismo Conquistando, y todo lo que es La vida de un joven Y, realmente, con este corazón De querer aprender Muy, muy sincero En decir lo que, pues, me encanta Aprender el idioma Y lo hice con todos los demás idiomas Pero lo que quiero que entiendas Es que la humildad Necesaria para estar todo el tiempo Celebrando mis propios errores Porque detrás de mi intención De constantemente retarme Y salirme de mi propia zona de confort La idea de obligarme A que no fuera simplemente Pues la primera vez que me lo hice Nada más Y yo, pues, si lo he dicho bien Si lo he dicho mal No, no, quiero realmente aprender Y no me frustraba la idea De no estar aún al punto En que quería Más bien me apasionaba Porque yo no medía Mis esfuerzos Según lo que ya tenía alcanzado No, yo Con mucha fe Con mucha pasión Con mucha capacidad De visión En el futuro Yo entendía Que cuanto más errores Y cuanto más Me exponía A la incomodidad Y cuanto más Me exponía A la práctica constante Donde, claro Se desvelaban mis errores O en algunos casos Mis horrores lingüísticos Cuando propio Fallaba miserablemente Pero justo El no Salirme De 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 esa modalidad Muy, muy, muy Ocupada en aprender Justo Mi consistencia Mi perseverancia Y no quererme Fugar De la incomodidad En cambio La abrazaba Esa sensación De estar En el punto En que aún no sé Pero quiero saber Y yo sostenía Esa tensión Una tensión Positiva, obviamente Pero que para muchas personas Es un susto En plan No, yo Me voy a sentir incómodo La vergüenza Y como lo digo Y la gente me escucha Y se me toman el pelo Que dirá la gente Y yo me escucho horrible Parezco tonto Y no, no lo sé decir Aún no lo sé decir Y no quiero equivocarme Tengo miedo Y todo esto Ok, todo Y no era así para mí Porque todo Ese pensamiento Fracasado O ese tipo De mentalidad Perdedora Yo dije No No Porque solo Montándome en la bici Y Sosteniendo la tensión De la dificultad De que casi me caigo Y me caigo De vez en cuando Pues puedo seguir aprendiendo Y mejorando Y volverme Todo un profesional Con la bicicleta Porque solo conduciéndola Voy a poder aprenderla De verdad En la forma práctica Y el idioma Siendo un instrumento De comunicación Que solo puede existir En el momento En que tú produces Fonemas Porque el idioma No nació Escrito El idioma Nació Vocalizado Fonéticamente ¿Cómo aprenden Los bebés? Dígame Señores y señoras Los bebés Aprenden De mamá y papá De su entorno Y no van a la escuela Ya saben hablar Y comunicarse Es luego Que se le fuerza Con la gramática Para que A lo mejor Mejoren Y estudien literatura Y eso es fantástico Y maravilloso Pero el idioma Nace Crece Se desarrolla Y se aprende Aquí En la boca Señores Si tú no estás Hablando Si ustedes no están Hablando señores No van a poder Aprender el idioma Olvídense De estar sentados Años En teoría Gramatical Aburrida Seguro que tendrán Conceptos Y podrán incluso Hacer clases A otros Sobre la estructura Gramatical Pero ustedes No van a hablar Ustedes van a aparecer Discos rotos Cuando hablen Porque la vergüenza Se los va a comer Y eso es la verdad Llega un joven Callejero Como yo Ok Que nunca se ha hecho Mitad curso En español Señores y señoras Yo nunca me he tomado Un curso en español Ni mitad Ni me he abierto Ni me he abierto Una página De gramática española Ni una Pero claro Cuánto contenido He consumido En español Cuánto yo estuve Realmente Escuchando a la gente Con la atención Cuántos libros Yo me leí Pero libros reales Libros de filosofía Libros de literatura Libros de cualquier Tema Que sea de actualidad De neurociencias En español Señores y señoras En español Y en portugués Y en inglés Todo el contenido Yo trabajo Vivo en otros idiomas Es Aparte de las relaciones Sociales De las que Les estuve hablando Esto fue el cambio radical Porque Mientras tú Habla, habla, habla Habla todo el tiempo Claro Yo en un día Pues me hacía Diez horas hablando Y es claro Que yo aprendí español Lo normal Para defenderme En menos de tres meses Esta es la verdad Amigos y amigas Ahora No quiero hacer aquí El show Ok Pero en serio Esto me apasiona Demasiado Para que Para dejarlo Y estoy hablando Justo en español Ya he dejado un poco El tema de italiano Para que Para que la gente Puede decir Ok Pero Cuanto Cuanto es que Ese hombre realmente aprendió No, porque si no Yo podría estar diciendo Que hablo este idioma El otro idioma No, no Es que esto Es como hablo el inglés Esto es como hablo el portugués Es como hablo los idiomas Que dijo O sea Que yo estuve aprendiendo Y no los estuve aprendiendo Con la metodología Que le dije teórica Porque en la escuela Me iba De forma patética Ni siquiera realmente Podía sacar lo mínimo Porque La profesora no hablaba No hablaba el inglés Ni fonéticamente Se acercaba Al sonido correcto La La forma De la educación Era completamente equivocada Era un método Inductivo Y no deductivo Pues Terrible me fue Entonces fíjate Es por esto que yo Cuando inventé La nueva metodología Que es una metodología De la absorción Que es una metodología Deductiva Que es una metodología La misma Con la que yo aprendí Tantos idiomas Pues a las personales Fue bien Y es por eso Y es por eso que te recomiendo Que si estás Iniciando El aprendizaje De idioma italiano Quiero que sepas Que aquí está Un maravilloso Videocurso Gratuito De italiano Que vas a recibir Directamente a tu correo Electrónico De forma completamente Gratuita Aquí en Marconicida.com En mi página web Muy segura Muy tranquila Porque es mía Y yo la cuido Con mucho cariño Te vas a encontrar Fantástico Ahí Pones tu correo Electrónico Recibes todo Te lo hago ver Además aquí Para que veas Una vez que entres Aquí en Marconicida.com Va a ser muy simple Aquí abajito Vas a poner Tu correo electrónico Donde está la fecha En rojo Luego acepta Recibir los videos De forma gratuita Te suscribes En un pispas Dándole click Al botón naranja Suscríbete Recibes todo El correo electrónico Y son videos Durante semanas De forma gratuita De un curso básico Y gratuito Donde en esos videos Yo te guío Paso a paso Como para poder Formular frases Sostener conversaciones Directamente en italiano Claro que te doy La guía Y la traducción En español Pero todas Las condiciones De vida real Las situaciones Las frases útiles Esto lo cambia todo Y entonces Luego cuando habrás Cursado el videocurso Gratuito Y básico Y se sentirás Contenta Contento Si quieres progresar Sepas que hay otros cursos El videocurso completo italiano Está el videocurso avanzado Para perfeccionarlo Y ojo También otra cosa Muy importante Si tú quieres practicar Directamente conmigo Si quieres realmente avanzar De una forma práctica Donde no se trata ya De un curso Que estudias en autonomía Que me escuchas en mí Y repites Si es que eres Como yo Firme Y muy Consciente De que es necesario Seguir Practicando Por tu cuenta Incluso si yo no puedo Saber Si lo estás haciendo de verdad Pero si tú quieres En cambio Que yo sea Tu instructor Personal Que yo sea Tu tutor Personal Que yo sea La persona Que te guía de la mano Y paso a paso Y lo haríamos Directamente en videoconferencia Por lo tanto Estaríamos ahora Tú y yo En videoconferencia Yo estaría Hablándote En italiano Y realmente Ayudándote Asegurándome De que tú Pues hables italiano Y que hables bien italiano Y te enseñaré La fonética correcta No de forma teórica Te ayudaría En el acto En el momento En tiempo real A que tú produzcas Exactamente Las frases Y las palabras Con la misma fonética Que me sale a mí Con tantos trucos fonéticos Que yo me sé Que de toda forma Con mucha experiencia De conocer tantos idiomas Como para darte La transcripción fonética De cómo sonaría En tu idioma Para que tú entiendas Ah ok La voz que la lengua Tengo que posicionar Y te va a salir perfecto Ese sonido Vas a poder entonces Repetir Tras mi Simple Exponerte Las frases Para ayudarte En la exposición De cosas De tu vida real Directamente en italiano Y tú vas a sentir La felicidad La auténtica felicidad El poderío La sensación De finalmente He superado La barrera Del límite He superado La vergüenza He superado La complicación De que no sabía Hay alguien Que me guía Yo te voy Incluso a corregir Con mucho cariño Con mucho entusiasmo Pero te voy a corregir Para que sepas Siempre Cómo mejor decirlo Cómo mejor Seguir auto Regulando Tu forma de expresarte Y todo esto En italiano Con alguna ayuda En español Porque lo usamos Cuando es necesario Pero la idea Es directamente Montarnos a la bicicleta Yo estoy ahí Para darte una mano Pero ya estarás De la primera clase Ya montado En el sillón De la bicicleta Dándole con Tus propias piernitas Y intentando Y yo te sostengo A veces suelto un poco Y luego te sostengo Para que tú Vayas avanzando En la práctica real Entonces te voy a dar Unas cuantas frases Tú vas a intentar Inmediatamente Entrar en la fase mental De pensar en italiano Vas a intentar Producir Algunas frases Dices Me falta vocabulario Pero yo en aquel momento Tengo experiencia Intuyo lo que quieres decir Te suelto la palabra En italiano Como un ladrillito Para que tú sigas construyendo Y vas incluso A aprender a improvisar Tus frases Y va a ser muy divertido Y entonces Cuando tienes ya A los primeros 5 minutos De conocerme En la primera clase Que hacemos en videoconferencia Tú y yo Ya tienes tu primera frase Formada por ti Con mi ayuda Y voy a Enseñártela bien Fonéticamente Y vas a decir Wow Esta tercera vez Que la he dicho La he dicho Marco Más como tú Me gusta Me gusta Quiero seguir Esto es emocionante Y es lo que yo hice Y pues me Me fue muy bien Y entonces Quisiera volver al italiano Pero quería solo Que tú entendieras Entonces Es que motivación Pasión Humildad Humildad Para Para superar La zona de confort Para no quedarse uno Dentro de esa mentalidad Ay no No quiero Me da miedo Ay si lo digo más No te tiene que importar nada Te tienes que lanzar Te tienes que soltar ¿Qué importa? Como lo estás diciendo ahora Lo que importa Es que lo estés diciendo ¿Qué importa? Como ahora No te suena perfecto Como lo mío Claro Yo soy italiano De toda la vida Es normal Tampoco a mí me sonaba bien O se escuchaba bien Mi patético español inicial Pero sabes que es De no haber De no haber empezado En aquellos momentos iniciales Diciendo las cosas Tal y como me salían No habría podido Practicar lo suficiente Como para ahora Tenerlo así Esto es lo que pasa Es paradójico Yo a veces hasta Un poco me enfado Desenfado sano Del padre Que quiere ayudar al hijo ¿No? O del maestro Que quiere ayudar al alumno Y en plan Cuando escucho cosas paradójicas Como Marco No sé si voy a poder Cursar aún contigo Porque antes Necesito prepararme ¿Qué hago yo aquí? Se supone que la preparación Te la doy yo ¿Cómo que te preparas? Eso es ridículo Es como uno Que no entre al gimnasio Porque dice no, no, no Me voy a preparar en casa Para tener músculo Para luego poder empezar A entrar al gimnasio Y tener músculo ¿Cómo tú? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? O la gente me dice No, 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 no Es que me da miedo No, no puedo practicar Porque me da miedo Tener errores Se supone que vas a practicar Justo para cometer errores Porque cometiendo errores Significa que estás practicando Y si estás practicando Vas a mejorar Y los errores van a desaparecer Como forma Y conciencia de la práctica Es algo simple Pero amigos y amigas Créanme que la mente Juega muchas tonterías A la mente Las personas se confunden Tienes muchos problemas Con cómo El colegio tradicional El sistema escolar Los La pedagogia Antigua Que ha condicionado Muchas personas Con esto de que Tienes que Tienes que cuidarte mucho Porque la maestra Está ahí Con 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 la lupa Observando Tus errores Delante de la comunidad Eso Eso no Miren El error Hecho Mientras Se quiere Crecer Y mejorar Y el esfuerzo De querer Practicar algo Pues Se respeta Se valora Y muy bien El premio Va a ser Que con la consistencia La perseverancia Que el otro punto Que le quería decir Con la constancia Con la perseverancia No tiene sentido Hacer dos clases Y luego no aparecer Obviamente Ni siquiera yo tendría En consideración Personas así Pero lo que quiero decir Ni siquiera tiene sentido Para ti Es ponerte algo Que luego no quieras hacer La verdad es que La perseverancia La constancia La persistencia La disciplina Son claves Porque Cuando ya tienes Unos pocos Meses Y unas cuantas Semanitas Bien hechas Y ya sientes Que es todo Más bonito Es todo Más divertidito Ahí estar Hablando italiano Y la fonética Mejora Y las frases Y las palabras Un poquito Ya te vienen Más rápido A la mente En italiano Y ya como que Le agarras el gusto Y le agarras La dimensión En que todo se vuelve Quiero más Y quiero más Es como el gimnasio Los primeros tres meses Amigos y amigas Los primeros Tres, cuatro meses Son terribles Yo recuerdo Cuando empecé El gimnasio Y yo tenía Un cuerpo Que ya se iba cayendo Y pues me metía A ejercitar Un poquito El cuerpo En condiciones Que realmente Me daban No digo vergüenza Pero mucha frustración Porque no podía No aguantaba el peso Mi cuerpo estaba Medio caído Iba por los 34 años Y me daba Un poquito de Preocupación Que si ya a esa edad Me encontraba Un poco fofo Y dije Pues como será Los 40 Y afortunadamente Tengo 41 Pero en buena forma Porque el gimnasio No lo he dejado Desde ese entonces Y he crecido mucho Pasé de tener Unos 78 kilos De cuerpo fofo Y caído Y de barrigota A tener En los momentos Mejores Casi 98 kilos De masa muscular Ahora voy por 93 kilos No es que me mido Por peso Pero el punto Es que la fuerza Que tengo Es una fuerza Bastante grande Y la funcionalidad De mi cuerpo Y la salud mental Y claro Eres joven Y eres fuerte Incluso cuando Sigues creciendo Todo esto Para que vean Que si yo no hubiera Tolerado y soportado Las primeras Semanas de frustración En donde Claro Se me hacía evidente Que no sabía Ni por dónde empezar Si no hubiera aguantado El esfuerzo inicial El sudor El dolor Incluso articular De poner mi cuerpo En una situación Fuera Más allá De la zona de confort En una tensión Que me decía Vete Vete a la casa Vete al sofá Agárrate Unos doritos Y te pones Al Netflix ¿Verdad? Que es lo que la mente Quisiera hacer El cuerpo también Yo dije No, no Me lo he prometido Yo voy a ser persistente Yo no No acepto Un no Como respuesta Entonces tengo que ir Tengo que seguir Y si ustedes me conocen Pues saben que Lo he logrado Y he logrado Un cambio bastante El hecho de que yo No lo muestre Cuando estoy en los vivos Y me cubro Es porque Me gusta que sea así Pero si yo me quito La camiseta Pues soy un monstruo Realmente Musculoso Fuerte Y se ve guapo Y funcional Pero claro Yo me he visto cosas Que son típicamente Una o dos tallas Más grandes Porque no quiero Que se me Enfoque Solo con esa actitud Tengo otras prioridades En mi vida Pero claro Para la gente Y cuando quiero Pues ahí está Para la funcionalidad Para los trabajos pesados Que a veces uno hace En la montaña O lo que quiera Entonces Todo esto para decir Que si uno supera Esa fase Luego se queda Con la diversión Y cuando aprendes Un idioma Un segundo idioma Luego aprendes El tercero Luego el cuarto Se crea como Una simpática Alegre Entusiasmante De fenomenología Neurofisiológica Donde tú te creas Una armonía De seguir aprendiendo Estás como Dentro de lo que En inglés sería El flow O sea Prácticamente estamos En ese bonito río De flujo De intenciones De capacidades La mente ya entendió Cómo se hace Que se aprende Y todo es fácil Porque ya Eres capaz De vivir Afuera de tu zona De confort Y ya no te espanta Ni te da Frustración Ni tampoco vergüenza Estás viviendo Todo el tiempo En un gran En un gran Lugar Lleno De oportunidades Porque ya Eres a prueba De crisis Ya no te Eres más fuerte Has crecido El perímetro De tu existencia Ya no está dentro Está afuera Eso es maravilloso Aprender Que sean idiomas Que sea Aprender Qualquer materia Que sea El ámbito cognitivo Incluso Emocional Neurofisiologico Físico Competencias De todo tipo Y espiritualmente Es lo más Realmente Entonces Esto quería hacer Con este video Espero que sea claro Adesso torno A la lengua italiana Cosí magari Ecco Ci rendiamo conto Effettivamente Di quanto Sea bello Parlare italiano E Chiaramente Voglio leggere Qualche vostro Messaggio In particolare Mi scuso Con gli amici Di facebook Perché non posso Leggere evidentemente I loro messaggi Per alcuni motivi Però Andiamo Andiamo per ordine A leggere Prima di tutto Il messaggio Di Maya Un forte abbraccio Maya Anche a Meilin Che mi dice È meravigliosa La lingua italiana Voglio salutare A Irvin Personalmente E anche a Felipe Felipe che dice Buon pomeriggio Ciao Marco Come stai? Molto bene caro amico Spero che questo video A te particolarmente Ti sia stato utile Perché tu Ami molto le lingue E so che sei perseverante Bravo Salutiamo anche Al nostro amico Hernan Un forte abbraccio Fratello Come stai? Salutiamo anche A Gibram Che dice Ciao Marco Grazie per condividere Le tue esperienze Imparando le altre lingue Oggi vi ho parlato Solo della lingua spagnola Perché vi volevo aiutare Con un riferimento diretto No? Perché la lingua spagnola E la lingua italiana Sono simili E in questa maniera Potevate Sentire Speranza Potevate Sentire Una certa gioia No? Se io avessi oggi Parlato direttamente Dell'inglese Alcuni avrebbero detto Marco Però l'inglese Non è nemmeno simile L'inglese È veramente duro È difficile E lo so Che è difficile Soprattutto dal punto di vista Delle parole In quanto non presenta Una radice comune Però non importa Possiamo imparare l'inglese E in una maniera Meravigliosa Allora Salutiamo anche Marcello Che mi dice Io sono studente Di italiano In Argentina Bravo Marcello Continua a studiare Meilin Dice Wow Il tuo spagnolo È molto fluido Salutiamo a Zimtia E poi Gladys Che mi dice Che bella storia È io L'italiano Con te Non mi arrendo Neanche io Bravissima Gladys Ti do Un forte abbraccio Sono molto felice Della nostra lezione Di oggi Sei stata molto brava Ed è proprio Quello che facciamo Pensa che Quando io Penso Alle nostre lezioni Quando io Organizzo La metodologia Pratica Delle tematiche Che affrontiamo Anche le pause E tutto Il sistema Anche di motivazione Serve proprio A ripetere Quell'entusiasmo Quella Quella emozione Che io provavo Quando studiavo Quando imparavo E la dinamica pratica È esattamente La stessa Quindi Mi raccomando Non ti arrendere mai Congratulazioni È veramente Molto importante Stai crescendo molto Stai imparando molto E io ne sono felice Perché mi motiva A continuare Quindi brava Brava Gladys In Mondovisione Quiero solamente Decirle la ultima cosa En espanol E seguire in italiano Perché è importante A parte Lo che le dice Anche Che può essere Amare con Isida E Non ti arrendere mai il video gratuito italiano utilizzando lo che le explique antes, il correo electrone e presionando il botone suscríbete, ci sono gli altri cursos, il video gratuito italiano. Esos cursos, asesorios, adicionali, che ovviamente possono studiare dopo il video gratuito o se necessitano andare a Italia già per questione di stare a Italia o già vivono in Italia, necessitano perché il video gratuito lo dominano o già un po' necessitano crecer più rapidamente o se acercano a un viaggio o a un compromiso importante. Esos videos curiosos son maravillosos. Allà también le hablo de estructura, allá también de forma colateral y deductiva. No, 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 no. Teórica ni aburrida. Les enseño también temas de gramática para especializarnos, para mejorarnos. Está todo, todo completo. Es un curso autodidacta. Es un curso que tienen que hacer y repetir y seguirme con la firmeza de que, pues, sinceramente van a hacer las cosas con compromiso, tal y cual se lo digo. Pero también quería ser pragmático porque me gusta ser pragmático y quiero hablarte a ti personalmente. Por si eres una persona que necesitas, una persona que necesita, que desea, que anhela o que urgentemente debe de aprender italiano o lo desea y necesita una guía, un tutor personal. Necesitas la práctica de la que hasta ahora estuve enseñándote, de la cual estuve hablando. Por lo tanto, este número de WhatsApp, porque antes te hablé un poco de cómo funciona la metodología, pero no te dije. Muy simplemente envíame un mensaje de WhatsApp, escribe clases particulares y yo te envío un audio de vuelta para que puedas, sin compromiso, decidir si es una oportunidad que te gusta. Y esto te lo digo porque antes te recuerdas cuando te dije que estaríamos haciendo las clases tú y yo en en videoconferencia y qué presidente estaría guiándote todo eso. Pues la parte más importante que me olvidé tal vez por tanto deseo de hablarte de varias otras cosas es que se trata simplemente de que me envíes un número, me envíes un texto de WhatsApp. Esto es mi número personal de WhatsApp, por lo tanto, anótalo, le pones Marco, el nombre que tú quieras, o Marco Nicida, o y aquí iba a decir alguna broma, pero no tiene sentido, ¿no? Porque típicamente yo recuerdo que escribía Marco el italiano, ¿no? Si uno quiere identificar, pues Marco el italiano. Pero bueno, este número de WhatsApp es mi número personal, por lo tanto, sencillamente lo agendas, lo agregas en tu WhatsApp, me envías un texto escrito clases particulares, envíame ese texto, clases particulares. Yo entiendo que estás pidiendo informaciones sin compromiso, te voy a enviar un audio con mi propia voz, donde te explico cómo funciona esta increíble oportunidad de cursar directamente conmigo, de que yo pueda garantizarme y garantizarte que realmente vas a estar aprendiendo el italiano de forma práctica, con mi ayuda, con la fonética correcta y que vas a ser comprensible cuando hables con italianos en Italia, que vas a poder realmente estar preparado por si tienes que hacerte una certificación, por si tienes que acudir a un trabajo nuevo, por si quieres empezar a vivir a Italia o si ya estás viviendo en Italia, cuánto me duele el corazón cuando hay personas que están aquí en Italia viviendo desde hace 6, 7, 8 meses, a veces un año y no hablan ni pío italiano o si hablan, hablan en plan que parecen como salidos de la verdad, de la frontera, como en plan no tengo ninguna idea, acabo de bajar con las maletas. Eso no puede ser porque tu vida, tu éxito personal, profesional, sentimental, si vives en Italia, se supone que el idioma lo tienes que dominar y entonces la idea es que si necesitas, si deseas, si quieres conmigo reforzar, practicar, usar la metodología que yo he usado para aprender tantos idiomas directamente tú y yo en videoconferencia individual, solamente tú y yo sin prejuicios, con alegría, con entusiasmo, con una pedagogia que te va desde la primera clase, como dije antes, a dar la sensación verdadera, auténtica de que puedes hablar italiano porque vas a hacerlo con mi ayuda, con la metodología que te describí antes, pues sencillamente me envías aquí un WhatsApp escribiendo clases particulares y yo te respondo y sin compromiso vas a decidir si te parece bien o no. Yo también quiero saber si eres una persona seria con el aprendizaje porque no trabajo con cualquiera. Yo solo quiero estar trabajando con personas que realmente anhelen aprender el idioma, que realmente quieran sentir la emoción, la satisfacción y el objetivo y el resultado práctico y tenerlo y sentirlo y vivirlo y que el italiano se transforme en una forma también que puedan utilizar para pensar, para aprender más culturas, para crecer en sus vidas, que sea personal, que sea profesional, no importa cuál puede ser tu propia y personal motivación. Lo que me importa es que sí estés motivado o motivada. Lo que me importa es que sí haya seriedad detrás de tu intención, porque yo solo quiero trabajar también con personas que me permiten alcanzar mi misión, que es la misión de entregar valor, que es la misión de ayudar a las personas, que es la misión de sentirme también feliz con una, con un trabajo que más que un trabajo es propio, un talento que tengo natural, que también me he esforzado para, para, para encontrar y perfeccionar, porque son una vida de estudios, una vida de experiencias dedicadas a esto de la enseñanza y a esto también de cómo funciona el aprendizaje en sí, la mente. Pues entonces quiero realmente resultados, quiero resultados para ti, quiero que tú te vayas por el mundo diciendo que ha sido un curso maravilloso y que ya le puedas demostrar cómo se habla italiano y ellos dicen, ah, o sea, tú hablas italiano, ay, hablo italiano, qué bien, y tú bla, 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 bla. Y si estás en Italia, te puedas defender, puedas usarlo, puedas sentirte que dominas este idioma. Eso es lo que yo busco, lo que deseo. Por lo tanto, si deseas esto o si necesitas prepararte para tu vida en Italia o vives en Italia y quieres realmente, que yo me puedo asegurar personalmente de que vas, sí, hablar italiano o sí, o sí, como me ayuda con una buena fonetica, a chiestas el número WhatsApp, me envías clases particulares. Adesso ritorno alla parte dell'italiano, porque seguramente todos vos aman mucho la lengua italiana, entonces va bien poder también retornar a nuestra bellísima lengua. tengo el tiempo solamente de poder reprendre los mensajes, porque a veces van via, y seguramente la mi emoción te da un sentido concreto de cuánta pasión he por este lenguaje y por el aprendimiento. abbiamo Anmari che dice Ciao amici, vi auguro una buona giornata a tutti. Sono d'accordo con Marco, la migliore forma di imparare le lingue è con la pratica continua e a volte quando inizi non capisci tutto, ma impari tanto. Bravia, brava. Abbiamo anche un messaggio da Elia, credo si tratti di Suore Elia, a cui do un forte abbraccio, tanto Suore Elia come Gladys partecipano alle nostre lezioni individuali e alle nostre videoconferenze su WhatsApp, mi dice Ciao Marco, grazie per la tua esperienza. Certamente a causa della vergogna si perdono tante opportunità nella vita. Assolutamente. Io volevo anche a te fare i complimenti perché Suore Elia mi emoziona molto quando esprimi concetti così complicati direttamente in italiano e questo lo dico anche a favore di Gladys e di altre persone meravigliose. Oggi casualmente ci siete voi, ma tante altre volte ci sono altre persone. Per me è una grande emozione anche osservare la competenza che acquisite di poter esprimere concetti complicati, perché la vita è multidimensionale, la vita è anche culturalmente molto estesa. Esistono molti obiettivi, esistono molti settori, molte materie, molti momenti della nostra esistenza e bisogna poter parlare, conversare, esprimere, comunicare tutti questi aspetti multidimensionali della vita. La vita personale, la vita professionale, la vita familiare, la vita spirituale, psicologica, l'attualità e tutti i pensieri meravigliosi. E io quando parlo di cose anche complicate, perché voi lo sapete, Suore Elia, Gladys, parliamo a volte di psicologia, di relazioni umane, parliamo di differenze generazionali, di attualità, parliamo di politica, parliamo di religione, parliamo di tutto, parliamo di cose importanti e parliamo chiaramente anche dell'Italia e del linguaggio in sé, ma principalmente siamo nella capacità di poter affrontare tutte le conversazioni. Poi voglio salutare a Felipe, dice posso insegnarti alcune parole in dominicano se vuoi? Certo Felipe, dimmi, ok, ok, mi ha chiesto, lo devo togliere se no non lo fa, mi ha detto, mi ha detto Felipe, tienes un abrigo vacano? Ok, mi dice, dime che come va la vaina? Ma come va la vaina? E in Venezia dice, ah no che vaina puoi, è in plan, ah sì. Ok, allora mi diverto molto, mi piace molto fare gli accenti anche. Abbiamo Laura che dice, ciao maestro Marco, io posso praticare italiano ogni giorno con tutte le lezioni del tuo canale di YouTube e mi manda un saluto. Un bacio anche a te, Zimtia, dice imparando sempre qualcosa di nuovo con Marco. Grazie, sono molto felice che ti piaccia. A proposito, se questa diretta vi è piaciuta, se questa modalità vi sembra utile, se state imparando, mi raccomando, date un mi piace. Mettete un like a questo video perché aiuta moltissimo l'algoritmo a diffondere questo concetto, questo video, questa pedagogia. Abbiamo anche Nade che dice, wow, che bello che ci racconti qualcosa come questo. Ah, ok, che bello che tu ci stia raccontando le tue vulnerabilità senza nessuna vergogna. Io sto imparando anche l'inglese, però mi manca essere impetuosa. Assolutamente, cara amica, io ho perso la vergogna quando ho capito che la vergogna era un impedimento ed un ostacolo inutile nel mio cammino di apprendimento. Per trasformare, crescere, arricchire, superare, migliorare la nostra persona, dobbiamo essere capaci di abbandonare la nostra condizione egoica e dobbiamo essere capaci di prendere le distanze con il passato. Perché se io mi identificassi nella persona del passato, lo ripeto perché il trascrittore non ha capito, se io mi identificassi, non riesce a farlo poverino, vabbè, voi mi capite, se io mi identificassi nell'uomo del passato, non potrei diventare l'uomo del futuro, non potrei migliorare e io devo assolutamente crescere perché questa vita è troppo importante, questa vita è unica e io ho un proposito, io ho un destino, io ho un cammino e devo migliorare, devo crescere, devo superarmi, devo trasformarmi, devo offrire valore a questo mondo, devo assumere la mia responsabilità e devo ottenere un cambiamento che inizia in me stesso e che può eventualmente illuminare il mondo intorno a me. Quindi devo ricercare la mia luce e devo essere capace di comprendere le mie vulnerabilità e devo anche superare i miei errori. e per farlo bisogna essere molto onesti e la verità ci libera, la verità anche su noi stessi, l'autocoscienza, poter accettare le nostre difficoltà e vulnerabilità ci rende più forti perché se io comprendo che ho un problema e non mi vergogno di dirlo e non mi vergogno di accettare che devo migliorare, che ho un piccolo problema, io posso lavorare sul problema, io posso crescere, io posso superarlo perché il primo metodo per risolvere un problema è accettare di avere un problema. E quindi la cosa bella di praticare la lingua senza vergogna, con tranquillità, è perché se io comprendo che l'errore che posso commettere eventualmente di forma in maniera ingenua è solo una conseguenza diretta della quantità di pratica significa che se commetto molti errori sto praticando molto, molto, molto e se pratico molto, 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 molto nel tempo gli errori diminuiranno in maniera completamente conseguente e proporzionale e quindi la pratica fa il maestro. Andiamo anche da Paola che dice ciao professore Marco dal Messico, un grande abbraccio, nuovamente grazie a Gladys che mi scrive grazie Marco e nuovamente Paola mi saluta. Cari amici, io credo che per oggi abbiamo fatto una super lezione, una bellissima lezione, mi raccomando, nei commenti ditemi se vi è piaciuta questa metodologia io voglio veramente esporvi alla verità. Voglio aiutarvi a comprendere che la vita pratica non aspetta. La vita pratica non aspetta a te e non aspetta a me. Fuori da questo video c'è un mondo molto competitivo e quindi bisogna essere forti e bisogna essere impegnati e non c'è tempo per la vergogna. bisogna imparare, bisogna studiare, bisogna praticare, bisogna parlare, parlare e se una persona ride, ridi anche tu. Quando io commettevo errori in spagnolo io ridevo. Non ridevo ovviamente perché l'autoironia è un grande privilegio ed è un grande strumento di crescita perché se tu sei disposto a sorridere in maniera cordiale di te stesso in maniera simpatica autentica dimostri sicurezza perché solamente una persona sicura solamente una persona sicura di se stessa può ammettere le proprie piccole difficoltà perché è sicuro è forte non c'è problema quindi non rimaniamo attaccati al passato per proteggere il vecchio ego cerchiamo di abbracciare la migliore versione in cui possiamo trasformarci nel futuro cerchiamo di abbracciare la migliore possibilità di crescita del nostro essere ok cari amici io vi ringrazio vi prego di mandare un mi piace a questo video e soprattutto ricordatevi questa è la pagina questo è il numero di whatsapp rimanete anche iscritti al canale di youtube marconisida e attivate la campanella per essere sicuri di ricevere le notifiche quando facciamo la prossima live io inizio a salutarvi tutti cari amici grazie per la vostra gentilezza grazie per la vostra presenza un saluto forte a paula un saluto a gladis a nade a zimtia a laura felipe suorelia annmari e john che bello mi hai scritto ecco il modo più efficiente per imparare una nuova lingua l'amore è proprio così come sto imparando il tedesco bravo jo non avevo visto il tuo messaggio molto bello felipe mi chiede se sono mai stato nella repubblica dominicana ancora no caro amico ma spero in futuro di visitare tutta l'america latina te lo domando perché hai detto sì le parole che si dicono sì ho amici dominicani ho avuto amici dominicani e mi piace molto diciamo l'accento del tuo paese nuovamente meilin hernan caro amico come stai irvin meilin maya marcello a tutti un forte abbraccio ci tenevo a salutarvi personalmente ottima lezione dice gladis grazie a te cara amica e mi raccomando continuiamo a crescere insieme vi voglio bene un bacio continuiamo ad imparare con passione e ci vediamo alla prossima